Ragazzi oggi giornata tutta dedicata ai geni di Unima per quanto riguarda il competitivo e per quello che ovviamente ci aspetta la Regulation D Continuiamo il viaggio nell'analisi dei nostri Pokémon nuovi aggiunti su Scarlatto e Violetto tramite Pokémon Home Che saranno disponibili per quanto riguarda il VGC e il Battlespot dal primo luglio come sappiamo eccetera eccetera Non so, spero di sì, cioè secondo i miei calcoli io dovrei riuscire a portarvi tutta l'analisi per tutti quanti i Pokémon Prima dell'inizio della settimana dove torneremo in Battlespot effettivamente Usciranno più video, preparatevi, quindi usciranno secondo i miei calcoli anche sabato e domenica Sarà un lungo viaggio ma spero che apprezzerete questo mio sforzo Perché ragazzi siamo, sono l'unico forse che sta parlando di tutti i Pokémon per farvi vedere, per farvi riconoscere Anche per chi non li conosceva prima perché magari si è avvicinato al competitivo proprio da Scarlatto e Violetto Abbiamo parlato delle forme di Tornadus, Landorus e Tundurus, quelle più usate Oggi parleremo di Landorus e Tundurus di nuovo nelle due forme meno usate in competitivo E parleremo soprattutto di Enamorus nelle sue due forme Video anche questo che sarà un pochino più lungo rispetto al solito perché c'è da parlare di questi Pokémon Allora, piccola nota di merito va data a Tornadus nella sua forma Terian, ovvero nella sua forma Piccione Forma Piccione che ha come abilità Regenerator Ma a livello di statistiche, come potete ben vedere, non è che ha delle statistiche eccezionali È vero che ha un'abilità molto molto buona Ma se si deve fare una scelta tra il Tornadus Piccione e il Tornadus Classico che conosciamo Che abbiamo visto nel video di oggi, che se non avete fatto recuperatevelo Si sceglie sempre il Tornadus Forma Normale Prankster Ok? Si lascia perdere la forma Piccione Terian e quindi questa la possiamo cestinare tranquillamente Ecco perché comunque non ne parleremo, ne ho parlato in questo minutino qui e quindi ciao Passiamo a Landorus, anzi partiamo da Landorus nella sua forma base di lui sulla sua nuvoletta Allora, anche qua, tipologia Terra volante, 89 in HP, 125 in attacco, 90 in difesa, 115 in attacco speciale, 80 in difesa speciale, 101 in velocità Allora, per quanto riguarda Landorus e Tundulus, come detto già per altri Pokémon Che abbiamo già conosciuto nei metagame passati Andatevi a rivedere, se volete, come venivano giocati nei metagame passati Perché potrebbe esservi d'aiuto per quanto riguarda le mosse e strumenti ma anche le spread Per potervi approcciare a questa Regulation D con dei set vecchi Che poi magari voi andate ad aggiustare in base al metagame attuale Allora, per quanto riguarda Landorus, allora lui con le sue abilità ha Sand Force Che fa sì che le mosse di tipo terra, roccia e acciaio vengono potenziate di 1.3 sotto tempesta di sabbia Ma come abilità, ed era quella che rendeva Landorus di questa tipologia qua, abbastanza forte Era Sheer Force Le mosse che hanno effetti secondari vengono aumentate di 1.3 di potenza Ma si annullano gli effetti secondari Ragazzi sono un po' cotto quindi non fateci caso E ovviamente avendo Sheer Force lo strumento prediletto era la Life Orb Perché come sappiamo con Sheer Force voi avete il boost che vi dà la Life Orb di 1.3 Ma vi evitate il recoil di Life Orb grazie a Sheer Force Che come detto annulla gli effetti secondari Non solo delle mosse ma anche degli strumenti Il problema che potrebbe sorgere con questo Landorus Perché ovviamente questo Landorus viene giocato speciale Quindi non è speciale ma viene giocato speciale Perché fisicamente si gioca quello Terian E si preferisce di solito giocare questo Landorus qui Ora metto un po' le spread a caso Si preferisce giocarlo speciale Proprio per evitarci le Intimidate Alle quali non possiamo rispondere con ulteriore Intimidate Ok? Cioè il Landorus Terian se ne sbatte Perché comunque intimida anche lui e poi magari esce Qua invece ci serve un Pokémon che picchia forte E abbiamo come mosse Earth Power Che ovviamente con Sheer Force non avremo mai il drop Della difesa speciale dell'avversario Anche perché era solo il 10% di possibilità Ma abbiamo Sludge Bomb che può esserci utile Con i Erba, i Teratipi I Erba, i Folletti eccetera eccetera A livello di Teratipo sempre Flying Per il discorso fatto con Landorus, con Tundulus Che non hanno mosse volanti pur essendo di tipologia volante Quindi Terabast volante ci può stare stra bene E vi dà anche un po' di coverage Problema che potrebbe nascere per quanto riguarda questo Landorus qua È la sua mossa peculiare Sand Seer Storm Che abbiamo detto sull'Andorus Terian fisico È inutile mettergliela perché è speciale Come mossa Potrebbe starci nel set speciale di Landorus T Che abbiamo visto sempre nel video di questa mattina Qua invece potrebbe starci Ok? Ma se la mettete e usate Sheer Force come abilità Scordatevi la percentuale di burn Perché questa mossa ha il 20% di burnare gli avversari 80% di accuracy, 100% di potenza Ma come detto nel video sempre di questa mattina Sotto Rain La tempesta fatta da Tornatus, Tundulus e Landorus Al 100% di accuracy Quindi voi potete anche mettergliela Volendo È comunque una mossa terra speciale Ma avete già Earth Power E giocandolo con Sheer Force Vi evitate i burn Quindi Tanto vale Gli date Earth Power Anche perché comunque Non missa Perché invece che 80% C'ha 100% di accuracy Ha 90% di potenza Quindi 10% di base power di meno Ma È una mossa Stub Single target Che non missa E quindi potete spararla Molto più tranquillamente Riguardo alle sue spread Qua vedete che già ha un attacco speciale maggiore Rispetto all'Andorus T E con la Life Orb Senza rinculo Aumenta comunque la sua potenza E quindi Speciale Si può giocare tranquillamente Oltre al discorso del moveset Riguardo alla velocità Qua Dovete vederla voi Io vi consiglio Magari un pochino Più lento Quindi intorno ai 130 Però Bulky In modo da poter Magari reggere E magari con Un Tailwindsetter O qualcuno che fa Speed control Vicino Sarebbe Sarebbe comodo E comunque È un pokemon Che Quando si è visto I suoi bei dannetti L'ha fatti Ovviamente È un pokemon Counterabile Quindi non vi preoccupate Quando lo vedete Però Sappiate che Rispetto alla forma Di Tundurus Con Prankster Lui non ha Prankster Quindi anche in questa forma qua L'Andulus Picchia E questo dimostra Che l'Andulus Sia in forma Terian Che in forma Normale Picchia sempre Poi Tundurus Nella sua forma Terian Elettrovolante Anche qua Con 79 in HP 105 in attacco 70 in difesa 145 in attacco speciale 80 in difesa speciale 101 In velocità Lui Ovviamente È un attaccante speciale E ha Volt Assorb Come abilità Quando Se questo pokemon Viene colpito Da una mossa Di tipo elettro Recupera Fino a un massimo Di un quarto Dei suoi HP È immune Ovviamente Alle mosse Di tipo Elettro Può essere Comodo Da buttare In switch Su una mossa Elettrica Ha Un grande attacco speciale E Nel suo caso Di solito Io Quei pochi Pochissimi Ho visto Viene giocato Comunque Max Speed Max Attacco speciale E basta A livello Di strumenti Qua Una scarf O una specs Sono ben accette Così come la Lifehorm Riguardo Riguardo ad altri strumenti Ragazzi Non ne vedo Expert belt Forse Potrebbe essere Cover clock Potrebbe essere Che magari vi evita Gli icy wind L'electro web No L'electro web No Però gli icy wind E il fake out Ci può stare Assolutamente E Perché comunque Questo ragazzi Si Ha un grande Attacco speciale Però c'è sempre Il problema Della fragilità Classico Pokémon Da Da sparo Anche qua Terra tipo Volante Che penso Che sia un po' Obbligatorio Per un po' Tutti quanti Perché Anche qua Si Abbiamo Acrobazia Ma è fisica E noi lo giochiamo Speciale Abbiamo detto E anche qua Volo È l'unica mossa Volante Nel suo set E quindi Terra Blast E andiamo a dare Subito E poi ragazzi Qua c'è poco Da dire Cioè questo è un Pokémon Che ha tante mosse speciali Che deve picchiare Come se non ci fosse un domani E sbatterse Poi di tutto Il resto Qua Alla Tundulus Normale Maniera With Blood Storm Ce la vedo molto bene La sua tempesta Abbiamo Dark Pulse Abbiamo Flash Cannon Che può esserci molto utile In questo metagame Di folletti Di ghiaccio Di roccia E quant'altro Flash Cannon Ci potrebbe Ci potrebbe stare Parecchio bene Anche qua abbiamo Sludge Bomb Abbiamo Psychic Abbiamo Wall Switch Se vogliamo Entrare Uscire Insomma Però Anche qua Che gli dici Niente Questo Abbiamo un Asti Plot Se volete Ulteriormente No Ecco Un Asti Plot Vi può permettere Di Giocarlo Con meno attacco speciale Magari Anche a zero Con più investimenti In PS Difesa Difesa speciale In modo Da Setappare Un Asti Plot Con un Redirector Con quello che vi pare E Avere il vostro Attacco speciale Raddoppiato E poi potete Picchiare Quindi Quindi Insomma Poco da dire Pure su questo Pokémon Pokémon che Entra Picchia Fa danni Ha un sacco Di mosse Può essere Buono Magari in alcuni Team Specialmente Magari Veloci Per fare Un po' Di coverage Ok Gli date Tutte mosse Di coverage Lui entra Picchia E Ciao Passiamo Passiamo A Enamorus Allora Enamorus Partiamo da quello base Ok Qua c'è un po' Più Da parlare Sia nella sua forma base Che in quella incarnata Nella sua forma Terian Allora Enamorus Genio di Isui Che arriva dalla regione di Isui Folletto volante Nuovo genio Che Sta diventando Molto presente Nel Nei test Nella fase di testing Di showdown In molti team E' un pokemon Molto Molto comodo Da magari mettere In un team Se avete una slot Libera Ce lo mettete Perché è un pokemon Che può essere Molto molto utile Allora Oltre alla sua Alla sua tipologia Quindi già Essendo folletto Già è comodo Di per sé Tipologia volante Statistiche 74 in HP Questo perché Perché lui Una delle sue forze È l'abilità Lui ha Contrari Lasciate perdere Cute Sharp Serve a niente Lui ha Contrari come abilità Che fa sì Che Come abbiamo detto Nel video È un'abilità Davvero 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 Utile Allora Prima di parlare Dello strumento Andiamo a vedere Le mosse Allora Lui può essere Giocato come detto Sia fisico Che speciale Che mixed Questo perché Allora lui Nel suo set La mossa Che subito Salta all'occhio Unita All'abilità È Super power Eccola qua Allora Super power Mossa fisica 120 di potenza 100 di accuracy Mossa lotta Che va a calare Di uno stage Attacco e difesa Ma Se usata Con Contrari I drop Diventano boost E quindi Se Enamorus Con Contrari Usa super power Va ad aumentarsi Attacco e difesa Mossa quindi Che diventa Molto Molto utile Per boostarsi L'attacco Per boostarsi La difesa Eppur avendo Un Iron defense Nel suo parco mosse Qualora Dovesse essere usata Con Contrari Invece di aumentarsi La difesa Di due stage Potrebbe Si va a calare La sua difesa Di due stage Altra cosa carina Che si potrebbe fare Con uno Con un prankster Tipo Tundulus Scary face Su Enamorus E la sua velocità Aumenta di due Invece che diminuire Grazie proprio A Contrari Poi abbiamo Play raw Sempre Mossa fisica Però di tipo Folletto Quindi Quindi stab E con Contrari Voi in qualche modo Un po' Alla defiant Maniera Tenete dietro Le intimidate Perché ovviamente Se vi fanno intimidate Non vi vanno a calare L'attacco Ma ve lo vanno Ad aumentare Di uno stage Quindi anche un modo Per tenere a battle Che ne so Gli Arcanine Le intimidate Varie che potrebbero Girare I Landorus Ma Potete anche giocarlo Ovviamente Con Con Terra Blast Ha nel suo set Anche Tailwind Ma Non lo vedo Come un Tailwind Setter Cioè Il Tailwind Setter Proprio Per natura È Tornadus Ok Quindi giocate Tornadus Con la Tailwind E via Quindi Per quanto riguarda Lo strumento Io direi O una bacca Che potrebbe essere Una baccona Una Fiji Un'Aguaberry Una Iapapa Una Citrus Banalmente Oppure Una Southwest O magari I Lefty I Leftovers O con Sostituto O con Protect In modo che magari Potete reggere Di più Eccetera 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 Per quanto riguarda Quindi Vedete un po' Vedete un po' Voi riguardo Allo Allo strumento Io vado a mettergli Una Citrus Così A A piacimento Riguardo alle mosse Allora Le mosse Qua intanto Terra Tipo Volante Anche se Qui Potete Giocare un pochino Nel senso Terra Tipo Volante Per il discorso Che Poverino Anche lui Come i suoi I suoi fratelli Come unica Mossa volante A volo Nel suo set Anche qua Quindi La Terra Blast Con il Terra Tipo Volante Vi dà una mano Ad avere Un'altra mossa Stub Oltre a Play Raw Che in questo caso Poi diventa Stub Per 2 Non per 1.5 Proprio perché Manca una Stub volante Nel suo set A livello Di statistiche Ripeto Potete giocarlo Anche Magari In questo caso In questo caso Jolly Quindi con Lui arriva a 173 Quindi magari Anche abbastanza Veloce Esempio Sempre Che ne so Un 165 Per stare sopra A Urshifu Però Grazie a A Superpower Potete giocarlo Anche un pelo Meno investito Molto meno investito Per quanto riguarda L'attacco Perché comunque Con superpower Ve lo boostate E Superpower 1 o 2 Superpower Lui riesce A calarli Più o meno Quasi sempre Quindi riuscite A boostarvi Difesa E attacco Cosa molto utile E poi potete Picchiare Altra cosa Da dire Che ovviamente Può essere giocato Può essere giocato Speciale Quindi In questo modo qua Con il solito Discorso Magari Di Qua un po' Più lento Potrebbe essere Magari se avete Modo di Aumentarvi la speed Con una tailwind O fare a lui Uno scary face Per aumentargli La speed E Perché nel suo set Abbiamo Dazzingly Abbiamo Draining kiss Abbiamo il moon blast Abbiamo mystical fire Che può essere buona Per fare coverage Droppare L'attacco speciale Degli avversari Mossa di tipo fuoco Abbiamo Dove era Abbiamo iron head Ma Se volete Giocarlo Speciale Potete anche Mettergli E questo è un terratipo Che va molto su di lui Il terratipo steel Questo perché Già di per sé Con la sua tipologia Volante Folletto Resiste Ai lotta Il terratipo steel Ti può essere D'aiuto In fase difensiva Quindi se devi Difenderti Da mosse Super efficaci Che magari Ti shoterebbero Tipo un flash cannon Di Iatran Esempio Stupido Banale Terratipo steel Reggete Sicuramente E A health power Per magari Far male Proprio A Iatran Avete la Terra blast Che potete Comunque Lasciargli Anche con il Il terratipo Acciaio E Avete la sua Mossa Peculiare La sua tempesta Peculiare Alla Tornadus Landorus Tundulus Baniera Spring Tide Storm Spero che si Legga così Non ne ho assolutamente Idea 100 di potenza 80% di accuracy Come tutte Le tempeste 30% di chance Di calare L'attacco Degli avversari Di uno stage Badate bene Badate bene Mentre per Landorus Tundulus E Tornadus La loro tempesta Se usata Sotto rain Aveva il 100% Di accuracy Con lui Non funziona Ok Quindi Occhio Occhio Però potete Dagliela In un set Speciale Qui Ovviamente Contrary Vi può Sempre tornare Utile Perché comunque Avere una Un'abilità Che vi va A trasformare I drop In boost Anche magari Banalmente Per la velocità È ottima Come cosa Anche qua Che ne so La tempesta Qua gliela potete dare E gli date Super power Che magari In questo caso Andate a Utilizzare Più Per la difesa Che per l'attacco Quindi La usate Per boostarvi La statistica Di difesa Invece Dell'attacco Anche se poi Comunque fate male Anche Con una Natura sfavorevole Comunque A più Uno Fate male Anche di Super power Parliamo Parliamo Della sua Forma Terian Enamorus Terian Sempre Folletto Volante 74 In hp 115 In attacco 110 In difesa 135 In attacco Speciale 100 In difesa Speciale 46 In velocità Allora La statistica Base Di velocità Ci dice Che questo Enamorus È ottimo È buono Sotto Distorto Zona Ci dice Che ha 135 In attacco In attacco Speciale E quindi E quindi Noi andiamo A dargli Una natura Eccola qua Quiet Che va a calare La sua velocità E gli diamo Anche 0 I V In velocità E gli va Ad aumentare L'attacco Speciale 45 45 Di statistica In velocità Vuol dire Che è più lento Di ursa Luna Abilità Overcoat Quindi Non abbiamo Non abbiamo Contrari Questo pokemon È immune A Sandstorm Spora Effect Spore Sleep Powder Eccetera Eccetera Poi Quindi È mostro tipo Da Da polvere No Powder Smooth Dovebbe essere tipo Polvere A livello Di Strumenti Qui ragazzi Io ci vedo bene Una bacca Ma una bacca Ma una bacca Anzi Forse anche I Left Towers Volendo Perché comunque Ha tanti HP Cioè rispetto alla sua forma normale Può essere molto molto bulky Giocato molto molto bulky E ha delle difese alte Quindi è già resistente Di suo Ha un attacco speciale Della Madonna Quindi Possiamo investire anche Qualcosina Magari Ma poco In attacco speciale E poi Dagli tante In Difesa E in difesa speciale Vabbè Io qua ho sbagliato Proprio per avere Un Un pokemon Molto resistente Dal punto di vista Dal punto di vista Difensivo Che però picchia Perché 180 Ce li abbiamo Come statistica E usato vicino A un Cresselia Che magari gli fa Helping End Dopo aver messo Trick Room Gli fa Helping End Per Dagli una mano Per fare più danno Che fa Lunar Blessing Con quella sua mossa Che va a curare Sia Cresselia Che Che il compagno Davvero Diventa un problema Potrebbe diventare un problema Anche qua Tera tipo volante Per il motivo di prima Perché non abbiamo Nel nostro set Una mossa di tipo volante Eccetera Eccetera E quindi Tera Blast Mossa volante Perché ovviamente Abbiamo Urshifu Ovviamente abbiamo Amongoose Abbiamo i Tera Grass Ci stanno Pokemon Che comunque Anche se non sono Deboli Però pierano una Pecetta Dalle mosse volanti E quindi Ci può stare sempre Abbastanza Abbastanza bene Qui In questo set Qua Springtide Storm Imparerò a dirla Sicuramente Prima della Regulation D Questa Cazzarola Di mossa Ce la vedo Abbastanza bene Abbiamo sempre Mystical Fire Abbiamo anche La possibilità Di fare un Calm Mind Che potrebbe Tranquillamente Star Nessuno Ce lo Ce lo Vieta Quindi per Andarci a Boostare Difesa speciale E attacco speciale Quindi per Fare ancora Più Più Danni Poi abbiamo Sludge Bomb Sludge Bomb È carina E può essere Carina Perché Ci può essere D'aiuto In un Mirror Contro Enamorus O anche Contro gli altri Folletti Banalmente Stupidamente Quindi Se volete Potete metterla Oppure Mystical Fire Che comunque Va a calare L'attacco speciale Dell'avversario Di uno Stage Anche questo Potrebbe Per Mischiare un Pochino Le carte Potrebbe Non essere Non essere Male Abbiamo Earth Power Che comunque È sempre una Mossa di Coverage Per i Fuoco Per Iatran Che per lui È un po' Una minaccia Quindi Earth Power Potrebbe Tranquillamente Starci E Detto ciò Vi avevo Detto Questo Sarebbe stato Un video Un pochino Più lungo In effetti Così è stato E Però Ragazzi Sui geni Ce l'avevano Tanto Da Dire Bene o male Sia Landulus Che Tundulus Già li conoscevamo Non è che C'è stato Molto Da dire Per quanto Riguarda Per quanto Riguarda Loro Enamorus Che era Nuovo Toccava Un pochino Parlarmi Quindi Nella sua Forma Normale Potete Trovarlo Attaccante Fisico Potete Trovarlo Attaccante Speciale Potete Trovarlo Mixed Come in Questo Caso Qua Con Tutto Quanto Speciale Con Super Power Grazie A Contrary Che comunque È un'abilità Che lo rende Molto Molto Forte Mentre Enamorus Terian Molto Buono Può essere Molto Buono Sotto Sotto Trick Room Ovviamente Avendo come unica Abilità Overcoat Ragazzi Non fate Spora Su Staggeggio Cioè Se ve lo trovate Davanti Non gli fate Spora Se no Altrimenti Vi piate la switch E ve la date In capoccia Io Ve l'ho detto Quindi Mi raccomando E Lui Potrebbe essere Un Un altro Membro Di un Hard Trick Room Team Davvero Forte E Mentre In Serie 3 Ecco Questa Piccola Conclusione Su questo Video Mentre in Serie 3 I Trick Room Erano un po' Spariti Ok Qua Tra Cresselia Ursa Luna E Namorus I Trick Room Team Torneranno Ragazzi Detto ciò Noi ci vediamo Al prossimo video Bacioni Alla prossima Ciao Ciao